Nasce dalla collaborazione tra un mostro sacro come David Zard, il figlio Clemente e il progetto Romeo e Giulietta. A me cambia il mondo, il musical del francese Gerard Persuvic, che nella versione italiana di Vincenzo Incenso ha finora collezionato 200.000 spettatori in 121 repliche. Atteso nel rinnovato Palapartenope dal 9 al 13 aprile, 4.500 biglietti già venduti sui 12.000 disponibili, come scrive il quotidiano Il Mattino, dopo una nuova tranche di repliche romane al Gran Teatro dall'11 al 16 marzo. I numeri sono impressionanti, 11 interpreti, 45 persone sul palco e 60 dietro, 13 autotreni, 270 costumi, 23 cambi di scena, 122 facchini. Il cast alterna nomi noti a emergenti, i protagonisti dal titolo sono la bella Giulia Luzzi e Davide Merlini, Lucia Giacomelli e Mercuzio, Gianluca Merolli, Tebaldo, Leonardo Di Mimmo il Principe, Riccardo, Maccaferri, Benvolio, Silvia Querci la Nutrice, Gio Tortorelli, frate Lorenzo. Regia di Luciano Peparini, coreografia di sua sorella Veronica, i protagonisti si raccontano i nostri microfoni. Questa cosa magari al giorno d'oggi si è persa, no? Questo amore vero, questo amore focoso che arriva da dentro. Io mi sento Romeo proprio per questo amore focoso che ancora c'è dentro di me e che magari in tante persone al giorno d'oggi non c'è più questo romanticismo magari che ora si è perso. Invece io sono ancora legato alle lettere, alle rose, ai fiori, a queste cose di una volta. Il musical è qualcosa che io sogno fin da quando ero veramente bambina perché i miei genitori mi hanno sempre trasmesso questa passione per il teatro. Cioè io ho visto tutti i musical possibili e immaginabili in Italia fin da quando avevo tipo tre anni. E quindi la mia aspirazione ogni volta era ok sto vedendo questo spettacolo ma domani sogno di essere io lì e non più spettatrice. E quindi ecco quando ho saputo dei provini per Romeo e Giulietta ho detto ok proviamoci. Ho sostenuto diversi provini però il ricordo più bello è proprio l'atmosfera che si respirava in quella sala, insomma durante quelle audizioni. E non so è come se una volta entrata lì è una sensazione strana, avessi immediatamente capito che io dovevo essere Giulietta. Cioè dovevo solamente convincere gli altri che in realtà ero io.